Anticipazioni Terra Amara Nelle prossime avvincenti puntate di Terra Amara, accadrà qualcosa di sconvolgente che lascerà gli spettatori a bocca aperta. Betul farà una terribile scoperta, vede in mano alla nonnina una vecchia foto che ritrae Demir con un personaggio misterioso. Chi sarà? Betul riuscirà a prendere la foto? Se vorresti sapere come va a finire, rimani fino alla fine e non te ne pentirai. Betul farà una scoperta rivelatrice riguardo a un'immagine cruciale e cercherà di sottrarla dalle mani di Azizze. Tuttavia, Azizze si opporrà fermamente, conscia dei potenziali rischi e delle conseguenze legate alla divulgazione di questo segreto. La tensione tra Betul e Azizze crescerà rapidamente, culminando in un acceso litigio durante un momento di agitazione. Inavvertitamente, Betul spingerà Azizze, provocandole una caduta e procurandole una ferita alla testa. Questo evento segnerà una svolta significativa sia per Betul che per Azizze, Betul realizzerà la gravità delle sue azioni, mentre Azizze si troverà in una posizione vulnerabile. In questo frangente critico, Sermin interverrà in modo deciso, riconoscendo il pericolo in cui si trova sua figlia. Minaccerà Azizze con determinazione, dichiarando in modo chiaro e minaccioso, se parli, la tua vita finirà qua. Queste parole saranno pronunciate con serietà, sottolineando la reale gravità della minaccia per Azizze. Nel frattempo, le rivelazioni tra Zuleya e Akan si intensificheranno, rafforzando la loro relazione. Nonostante ciò, Zuleya rimarrà all'oscuro della vera identità del suo fidanzato. Un'opportunità si presenterà quando Betul, collaborando per cercare una foto perduta, scoprirà un'immagine raffigurante de Mirko Nakan e con il vero nome di quest'ultimo scritto sul retro. Realizzando che Akan è un ricercato trafficante di armi, Betul deciderà di tenere la foto per sfruttarla a proprio vantaggio. Quando fa di che Lutfi, due personaggi chiave della trama, interrogano Azizze sulla causa della sua ferita, la donna prende una difficile decisione, mentire, affermando di essere inciampata. Questa scelta va contro la sua natura onesta e valorosa, ma la paura delle possibili ritorsioni da parte di Sermin la spinge a celare la verità. Nei prossimi episodi di Terra Amara, ci attende una svolta significativa nella vita sentimentale di Fikret e Betul, i quali ufficializzeranno la loro relazione. Questo evento sembrerà consolidare il loro legame agli occhi degli altri personaggi, ma sotto la superficie si cela una complicazione emotiva. Fikret, infatti, non troverà la vera felicità in questa relazione, poiché il suo cuore sarà irrimediabilmente attratto da Zuleia, introducendo così un elemento di tensione e ambiguità. Parallelamente, nelle prossime puntate, la zia di Fikret, Lutfi, acquisirà un ruolo sempre più centrale nella trama, soprattutto in relazione alla vita sentimentale di Fikret. Lutfi si rende conto dell'infatuazione di Fikret per Zuleia, e questa consapevolezza lo preoccupa profondamente, poiché teme le possibili ripercussioni che questa relazione potrebbe avere non solo sulla famiglia, ma anche sull'intera comunità di Kukurova. Lutfi, consapevole che una relazione tra Fikret e Zuleia potrebbe generare tensioni e conflitti, data la complessità del passato e le dinamiche familiari esistenti, si dedica attivamente a impedire lo sviluppo ulteriore di questa connessione. Convinta che la scelta migliore per Fikret sia rimanere con Betul, ritenendola più sicura e stabile per lui e per la famiglia, Lutfi adotta diverse strategie. Per convincere Fikret, Lutfi sfrutta ogni risorsa a sua disposizione. Potrebbe cercare di instaurare un dialogo con lui, esprimendo le sue preoccupazioni e cercando di farlo vedere la situazione dal suo punto di vista. Inoltre, potrebbe orchestrare situazioni in cui Fikret e Betul possano trascorrere più tempo insieme, sperando che ciò rafforzi il loro legame. Lutfi potrebbe anche cercare di influenzare gli altri membri della famiglia affinché supportino la sua posizione, coinvolgendo parenti stretti o addirittura amici della famiglia, cercando di costruire un fronte unito che possa convincere Fikret a seguire il percorso che lei ritiene più adatto per lui. Tuttavia, nonostante gli sforzi di Lutfi, Fikret potrebbe trovarsi in un dilemma. I suoi sentimenti autentici per Zuleya sono profondi e forti, e la lotta tra il cuore e la ragione diventerà un elemento centrale del suo sviluppo. Nelle prossime puntate, gli spettatori saranno testimoni di questa battaglia interiore di Fikret, mentre cerca di bilanciare il rispetto per i desideri della sua famiglia con i suoi veri sentimenti per Zuleya. Questa situazione aggiungerà una significativa carica emotiva, contribuendo a rendere la trama più profonda e complessa. Fikret, sempre rispettoso dei desideri familiari, in particolare quelli della zia, si dedica con determinazione a reprimere i suoi veri sentimenti per Zuleya. Si sforza al massimo per assicurare la felicità di Betul e mantenere l'armonia nella famiglia Yaman. Nonostante gli sforzi, Fikret è costantemente dilaniato tra il dovere imposto e le emozioni autentiche del cuore. La complicazione raggiunge il culmine quando Fikret scopre gli inganni e le manipolazioni di Betul. Questa rivelazione rappresenta un colpo devastante per lui, poche si rende conto di quanto la loro relazione sia stata falsa. Fikret, fedele al suo principio di agire correttamente, si sente tradito e deluso da Betul. Questa consapevolezza lo spinge verso una decisione difficile ma inevitabile, lasciare Betul. La scelta di Fikret avrà conseguenze profonde su tutti i personaggi coinvolti. La fine della loro relazione introdurrà nuove dinamiche e tensioni nella famiglia Yaman e tra gli altri protagonisti della serie. Gli spettatori avranno l'opportunità di osservare come Fikret affronterà questa nuova fase della sua vita e di comprendere le conseguenze delle sue azioni, sia per lui che per gli altri personaggi. Fikret dopo essersi lasciato con Betul, farà di tutto per provarci con Zuleya? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Se vorresti il continuo della storia, scrivi il sì nei commenti, a presto, ciao! Grazie! 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 Grazie!